Musica Ciao Bad Taste! Gli amici di Universal ci hanno chiesto di realizzare dei video in occasione del Ritorno al Futuro Day che avverrà il prossimo mercoledì in cui noi della redazione dovevamo spiegare perché secondo noi e perché secondo una larghissima fetta di persone in tutto il mondo la saga di Robert Zemeckis nata ben 30 anni fa sia così popolare. Io non me lo so davvero spiegare, tanto per fare una rima inutile alla Tiziano Ferro, non perché Tiziano Ferro sia inutile ma perché la rima in sé era abbastanza banale. Detto questo è dal 1985, da quando avevo la tenerissima età di 5 anni che mi domando ma perché questa saga piaccia così tanto e spinga e abbia spinto le persone a comprare VHS, cofanetti in DVD, cofanetti in Blu-ray che vedete qua, altri cofanetti in Blu-ray perché è sempre meglio avere due copie perché non si sa mai, magari io non lo presti e dopo vabbè non torna mai indietro. Oppure, che ne so, qui c'è una DeLorean Lego, Out of Time, qui è cascato Doc Emeck Brown ma ci sono anche dei Funko, io non lo so, veramente non l'ho mai capito, io non ho mai amato questa saga, non capisco perché il 21 ottobre si debba festeggiare il viaggio nel futuro di Doc e Marty McFly. Tutto quello che vi posso dire è che questa sera ho un appuntamento, ho un cerimoniale ritmico e quindi me ne vado, vi saluto e buon ritorno al futuro dei, non capisco perché siate così fissati. A memoria mia non era mai capitato che si festeggiasse un giorno e un anniversario che non esistono e appartengono solo ai film, oggi ricorre il primo anniversario del giorno in cui Marty McFly è arrivato dal passato e secondo me, ritorno al futuro, dopo 30 anni ha ancora questo impatto, regge ancora così tanto e è ancora così amato e così inimitabile perché quello che è accentrato, a parte la commedia, a parte l'azione, a parte la fantascienza, è in realtà un'altra cosa ancora che si fa talmente poco che ogni volta che la vediamo siamo sorpresi, che è l'avventura. Quelli, quegli anni lì, gli anni 80, erano gli anni in cui Spielberg riscopriva l'avventura con Indiana Jones e del resto un po' di anni prima Lucas l'aveva riscoperta ambientandola su altri pianeti. Zemeckis continua esattamente in quel percorso e fa un film che non è azione, non è commedia e non è fantascienza, ma è cinema d'avventura, cioè quei film che usano luoghi esotici, cioè altri tempi, per scene dinamiche, per grandi inseguimenti, per un'avventura più grande della propria vita. Cosa ricordiamo di Ritorno al futuro? Ricordiamo delle battute? Ricordiamo dei baci? Ricordiamo dei piccoli momenti intensi? Sì, ma anche no. In realtà, quello che ricordiamo di Ritorno al futuro è Marty McFly che attraversa la macchina di biffa e ricade sul suo skateboard nel grande inseguimento di fronte al laghetto. Ricordiamo l'immenso George McFly che picchia biffa, uno dei momenti di massima soddisfazione possibili. Ricordiamo Marty che rischia di scomparire mentre suona e ancora ricordiamo ovviamente Doc che si cala giù per la fune per riuscire a far ritornare di nuovo nel suo presente, Marty McFly. Tutto questo è l'avventura. Il fatto che ci ricordiamo solo scene dinamiche, solo grandi movimenti, grandi momenti epici, avventurosi, con una colonna sonora incredibili, in realtà è il segreto di Pulcinella di perché Ritorno al futuro è Ritorno al futuro anche dopo 30 anni. È per me molto emozionante ritornare con la mente a Ritorno al futuro, 1985. 1985, avevo 10 anni e il ricordo dell'esperienza cinematografica in sala è perso nella nebbia della memoria. Mi ricordo molto più nitidamente E.T. Ritorno al futuro però è molto più nitido come ricordo di nuove visioni, di visioni ripetute, cioè il VHS. Quindi ero diventato un pochino più grande, erano passati un pochino di anni dall'uscita cinematografica in sala e quella cassetta con mio cugino era vista e rivista, quel film era visto e rivisto, lo vedevamo in continuazione insieme ad altri film, ma Ritorno al futuro c'era sempre. Perché? Perché stavo per diventare adolescente e mi identificavo molto e io sono stato peggio di un nerd da adolescente, ero un disadattato totale. E in quel momento in cui il cinema era innocente e la visione cinematografica era innocente, per me che poi sono diventato un orribile analista professionista cinematografico. Vedere e rivedere quel film mi serviva per capire come la debolezza si potesse trasformare in forza. Il personaggio in cui mi identificavo di più non era Marty, che era troppo vincente, era troppo sicuro di sé, anche se adoravo Michael J. Fox, era Chris Pinglover, suo padre. Perché? Perché io ero minuscolo, ero molto deboluccio come ragazzino, ero molto alienato dal mondo dei miei coetanei, nell'adolescenza poi sarebbe stato ancora peggio, e quindi mi identificavo molto in questo padre così preso di mira, così soggiogato, e mi faceva una grande tenerezza e mi identificavo in lui. Poi c'è l'avventura, poi c'è il viaggio indietro nel tempo per salvare la tua famiglia, e poi c'è anche qualcosa di sessualmente provocatorio e che mi mise un po' in crisi, cioè questa idea di incontrare tua madre molto bella, molto sexy, che ci prova con te. E quindi questa idea di incontrare Edipo prima di Sofocle, prima di studiare Sofocle al liceo classico, quindi fu scioccante. Tutto questo era presente in Ritorno al Futuro, un capolavoro immenso che vedevo e rivedevo, vedevo e rivedevo, con il VHS che si consumava, sempre di più, sempre di più, sempre di più. E quindi buon anniversario di Torno al Futuro, grazie di essere stato presente nella vita di questo piccolo uomo, grazie di avermi insegnato a credere nella possibilità di cambiare le nostre vite, perché Marty riesce a cambiare la vita dei McFly, riesce a cambiare il futuro della sua famiglia andando nel passato e questo è un tema universale, perfetto, geniale. Grazie Robert Zemeckis, grazie Ritorno al Futuro e buon anniversario. Grazie a tutti.